Per anni ho osservato la città di Roma, ho studiato, mi sono addestrato e ho ucciso fra le sue mura. E nel tempo l'ho domato, l'ho plasmata a mia immagine. In questa città non ho mai incontrato nessuno alla mia altezza. Un'anima desiderosa di uccidere nel nome del fato, in grado di reclamare ciò che le appartiene per diritto, capace di guardare la morte negli occhi. E' abbastanza carismatica da radunare un esercito inarrestabile per conquistare l'Italia intera. Cosa intendi fare? Beh, farmi degli amici. Se voglio vivere, vivo. Se voglio prendere, prendo! Ora sei tu il capo degli assassini. Riuniscili, Ezio Auditore, e riconquista Roma. Semmai incontrassi un uomo simile. E semmai quell'uomo entrasse nella mia città. Saprei benissimo come accoglierlo. Saprei benissimo come accoglierlo. Saprei benissimo come accoglierlo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti